Il caso Opera Pia ha innescato una serie di botte e risposte tra il Movimento 5 Stelle e l'amministrazione comunale, con tanto di querela da parte del primo cittadino per diffamazione aggravata plurima a seguito delle insinuazioni rilasciate dai pentastellati, e continua. Per fare chiarezza e per trasparenza verso la cittadinanza, il sindaco Cassì, leggiamo in una nota, ha scritto un'informativa con la quale spiega le ragioni amministrative che hanno coinvolto l'ente a partecipare alla procedura per la locazione dell'immobile di via Matteotti. Prima di tutto la peculiarità della struttura che rappresenta la possibilità per il rilancio di un'area in difficoltà nel centro storico, un sito che ha una struttura unica in città nel suo genere con un chiostro circondato da un ampio portico al quale si affacciano le stanze che un tempo furono, aule e uffici di tribunale. E poi aule e uffici universitari, ora aperto a molteplici utilizzi. Per quanto riguarda i costi, nella nota si spiega come il canone mensile di 2.250 euro, 27.000 euro annui totali per un edificio storico con una superficie netta di circa 600 metri quadrati, oltre alla superficie del portico di 220 metri quadrati e alla superficie centrale scoperta di 400 metri quadrati, non può che essere reputato oggettivamente conveniente. Un costo che comunque potrà essere ammortizzato in tutto o in parte e magari trasformarsi in ricavo tenuto conto delle entrate derivanti dall'affidamento di uno più locale ad associazioni o privati, o in caso si ospitassero gallerie espositive, mostre o conferenze, e senza danni economici per i cittadini. Inoltre, contrariamente a ciò che 5 Stelle hanno incautamente diramato, si legge nella nota, non ci saranno costi aggiuntivi per l'ente. Le spese di ristrutturazione saranno defalcate dall'affitto. Il teatro della Concordia, opera attigua all'operapia, è in ritardo nella ristrutturazione per le inadempienze della passata amministrazione, a cui l'attuale sta cercando di rimediare, potrà essere direttamente collegato dall'interno. Alla domanda posta dei 5 Stelle, perché non utilizzare l'ex biblioteca? Il sindaco Cassir risponde, a parte il fatto che la conformazione e la possibilità di utilizzo dei due immobili sono completamente diverse, la vera domanda sarebbe un'altra. Chi ha detto che non vogliamo utilizzare anche l'ex biblioteca? Nella nota viene infatti spiegato che questo immobile, dalle caratteristiche ben diverse, dall'operapia, è destinato a riportare uffici pubblici in centro, in un modo opposto a quello verificato negli anni passati, quando si è scelto di desertificare il centro. A conclusione della nota che si afferma che magari è normale per un cittadino non conoscere queste dinamiche, grave se invece chi ha governato a farlo, gravissimo se, anziché informarsi, ci si lanci pubblicamente in accuse di reato, diffondendo quotidianamente informazioni tendenziose ai danni della cittadinanza pur discreditare l'amministrazione.